Emergono altri particolari dall'inchiesta antimafia, cosiddetta Pass Partù, che ha provocato l'arresto di Antonello Nicosia. Le intercettazioni e la replica della deputata Giussi Occhionero. Abbiamo visitato il carcere di Sciacca. Antonello Nicosia, strumentalizzando il suo incarico di assistente parlamentare della deputata Giussi Occhionero, è entrato in carcere per ispezioni parlamentari, tra virgolette, quattro volte in breve tempo. Il 21 dicembre 2018 a Sciacca, il giorno successivo, 22 dicembre, a Trapani ad Agrigento. E il 1 febbraio 2019 a Tolmezzo, in provincia di Udine, dove tra gli altri è detenuto e Nicosia avrebbe incontrato Filippo Guttadauro, cognato di Matteo Messina Denaro. E la deputata Giussi Occhionero ha preso quanto svelato dall'inchiesta cosiddetta Pass Partù. Ha commentato Ringrazio la magistratura e le forze dell'ordine per lo straordinario lavoro di contrasto alla mafia. Da ciò che emerge dalle notizie riportate sui giornali, quello che diceva e scriveva Nicosia era ben lontano dalla verità. È vergognoso e gravissimo. La collaborazione con me, durata solo quattro mesi, era nata in virtù del suo curriculum, in cui si spacciava per docente universitario, oltre che di studioso dei diritti dei detenuti. Non appena ho avuto modo di rendermi conto che il suo curriculum e i suoi racconti non corrispondevano alla realtà, ho interrotto la collaborazione. Ora sono profondamente amareggiata, ma la giustizia farà il suo corso. Mi auguro nel più breve tempo possibile. Pur essendo del tutto estranea alla vicenda, sono comunque a disposizione della magistratura per poter fornire ogni elemento che possa essere utile, conclude la Occhionero. Antonello Nicosia avrebbe meditato di ricercare un altro parlamentare per lo stesso incarico, perché la collaborazione con l'onorevole Occhionero gli avrebbe causato delle difficoltà. Infatti l'Occhionero adesso milita in Italia viva di Renzi, ma è stata eletta con Liberi e Uguali di Piero Grasso. E gli amici mafiosi di Nicosia non avrebbero gradito il suo impegno con la formazione politica di un ex magistrato. E inoltre Antonello Nicosia avrebbe temuto che Piero Grasso, da magistrato quale è, si sarebbe informato su di lui e avrebbe scoperto la condanna definitiva per traffico di droga ha dieci anni e sei messi di reclusione da lui subita in precedenza. A testimonianza di ciò le parole di Nicosia intercettate sono mi spavento, mi spavento, quello si informa. E poi alla ricerca di un altro sponsor politico Nicosia afferma io vorrei fare con questi di Forza Italia, sarebbe meglio. E il boss a Cursio di Mino concorda, sì sarebbe meglio che sono più garantisti, liberisti e cose. E poi ancora Antonello Nicosia auspica o attende di ricevere da Matteo Messina Denaro un ingente finanziamento per un progetto attinente al settore carcerario. A lui, a Nicosia, non bastano più i ringraziamenti da Matteo Messina Denaro ma dal boss gradirebbe i soldi, altro che ringraziamenti. Da Messina Denaro un contributo per quello che faccio. Giratelo a Matteo così mi finanzi il progetto, manda un milione di euro. Ringrazia, ringrazia così. Ci vuole contributo, contributo alla famiglia per quello che faccio. E poi altra intercettazione che ha registrato una conversazione tra Antonello Nicosia e il boss di Sciacca a Cursio di Mino. I due intendono recuperare del denaro da un debitore e così dialogano. Allora, ci manda i due perciotti e ci va a fare tutte le cose. E' baffanculo, è che era la partita. Però una risposta alla mavire, perché non è giusta. Cioè, non è giusto. A parte che mi servissero. Un pezzo di carogna. Dice, chiama i carabinieri, i carabinieri chiamo io. No, ma io non chiamo i carabinieri. Io chiamo a uno che ti fa nascere lo senso, no? Che ti ammazza i legnati prima e poi dici, ma perché c'è perché chi dici la macchina? Inche i carabinieri chiamo io. Quello è i carabinieri. Carabinieri. Carabinieri.